Il lupo e le signore degli agnelli. Il macinino assima in prima, rivela di sé le vibrazioni più intime, soffi, scricchioli, raschiamenti, acciottolio di stoviglie. Sale così piano e su strade così deserte che può concedersi di andare a zigzagare per schivare le rughe dell'asfalto. Profumo di Versilia che sale dal terreno. Ramarri immobili dietro i paracarri. Allerta come veloci raptor. Intorno boscaglia fitta, senza segni di presenza umana, con nell'aria una sottile angoscia. La sensazione che, se finisci in una scarpata, ti ritrovano dopo 6.000 anni, come la mummia del Similaun. Afghanistan? No, l'avventura comincia in Lunigiana, sulle valli perdute sopra Pontremoli, dove abitano le signore degli agnelli. Sul crinale che porta in Liguria troverai i greggi pascolati da donne, mi avvertono già in paese, come per indicarmi la favolosa Arcadia dei Greci. Più in alto, a Rossano, nell'affollata trattoria da Adolfo, il cameriere serve una porzione da camionista di ravioloni e conferma. Cerca di Patrizia, uccinzia, oppure di Valentina, quella che tosa ancora con le forbici, in località formentara, e indica, verso occidente, un complesso arcipelago di pascoli in quota. Le valli di Zeri. Zeri veste del proprio pelo e mangia del proprio pane, dice con orgoglio. Il pelo sono le pegole dell'Appennino, il pane la farina di Castagne. Un mondo blindato, che però hanno nascosto e nutrito centinaia di militari alleati in fuga, consentendo loro di costruire, con la resistenza, una micidiale base avanzata alle spalle della linea gotica. Britannici, americani, polacchi, jugoslavi, olandesi, russi, belgi e francesi. E con loro una sessantina di paracadutisti inglesi spediti a preparare l'offensiva finale. I locali hanno subito per questo feroci rappresaglie, ma non hanno mai smesso di dare agli stranieri il pane e il pelo delle loro montagne, fino alla liberazione. Telefono a Patrizia, che ha appena finito la battaglia campale della tosatura, e si concede il lusso di una pausa. Si è profumata, agghindata e vestita a festa. Nella sua fresca casa in pietra, narra la sfida raccolta dal suo gruppo, governato da una solida maggioranza di femmine. Stavamo perdendo le tradizioni dei padri. Non sapevamo che le nostre bestie sono uniche. Hanno la carne più dolce e più chiara dell'agnello sardo. Non sapevamo che il loro latte ha un potere nutritivo altissimo e che la loro lana poteva essere infettita meglio di qualunque altra. Poi sono venuti quelli dell'Università di Pisa. Ci hanno detto che l'agnello Zerasco era frutto di una selezione unica. Abbiamo capito di avere in mano un tesoro e ci siamo consorsiate. È la resistenza che continua 60 anni dopo e contro nemici più infidi. L'indifferenza della politica, le invidie della gente, la stupida vergogna italiota del passato contadino, la grande distribuzione commerciale che stermina le diversità. Pat parla come un libro stampato. Sarebbe a suo agio anche nella reggia di Schönbrunn a Vienna o a un ricevimento di gala a New York. Fuori il vento accarezza le praterie della sua Roncisvalle. Intanto sento la voce di Cinzia che arriva con le altre. È lei la più autorevole. È da lei che tutto è cominciato. È stanca. Si siede su un muretto. Forma inconsapevolmente con il resto del gruppo un dipinto di Piero della Francesca. Sorride. Con tanta fatica stiamo facendo le profetesse in patria. Ci siamo attaccate con forza al passato che meglio poteva aprirci un futuro giusto. E abbiamo avuto ragione. Oggi i migliori ristoranti sanno che il nostro prodotto è imbattibile e vengono a cercarci. Finiamo con il buio in frazione Val di Termine. Un'isola circondata di stelle cadenti e silenzio. Sopra di noi l'orlo nero delle montagne dove la Liguria, la Toscana e l'Emilia si toccano. È incredibile quanto possa essere nera la notte appenninica. Attorno a noi neanche un lumino. Le stelle sono un'unica nebulosa da un lato all'altro del cielo. La topo dormicchia in un'area dura. Le bestie sono all'ovile. Anzimano in piedi. Strette fra loro. Appoggiandosi le une sulle altre. Nessun belato. Ma se una soltanto si muove oscillano tutte insieme come un unico animale. E allora lo scampanellio, il respiro e persino il calore si propagano come un'onda. Valentina abita quassù. È la più tosta di tutte. Sa tosare le pecore da sola. Le rincorre una per una. Le chiama per nome. Le immobilizza con le gambe e poi parte con le forbici. Per tenere d'occhio il lupo che transita sul passo dei due santi sopra casa sua, Valentina è capace di dormire con il gregge. Quassù del lupo hanno un rispetto reverenziale. È difficilissimo vederlo, ma se lo vedi l'impressione è tale che ti cambia la vita. È come aver visto uno spettro. Il lupo è una presenza sovrannaturale. Non ha peso. Viaggia come un overcraft. Galleggia nell'aria. Ed è stato proprio così che si è salvato dallo sterminio. Smaterializzandosi. Imparando l'assoluto silenzio. Riducendo la consistenza dei branchi. Muovendosi di notte e nell'ora delle gombre lunghe, alba e tramonto. È capace di seguirti per giorni e colpire il gregge al tuo primo momento di distrazione. Sorride Patrizia. Ma almeno uccide con professionalità. Non fa danni collaterali. E non lascia traccia. I cani liberi e i cinghiali invece passano come ruspe. E devastano tutto. I cani remmani sono nervosi. Fiutano presenze. Sopra la casa di Valentina c'è la pista dei lupi. Un'autostrada invisibile. I branchi seguono sempre la corrente. Viaggiano dall'Abruzzo verso nord-ovest. E sono arrivati da qualche anno in Francia, nelle Alpi Marittime. E alcune avanguardie sono già in Svizzera. Fra qualche anno, dicono, avremo un evento epocale. L'incontro fra i lupi italiani e quelli dei Balcani. Che non si toccano da secoli. Allora, per legge di natura, le due specie daranno vita, accoppiandosi, a ibridi di vitalità superiore. Lupi imbattibili. Un cane abbaia furiosamente. Altri rispondono. Il monte Gottero ne rimanda l'eco. Buio assoluto. Siamo a 30 chilometri dalla Spezia, ma sembrano i Carpazzi. Sento urulare, lontano, una parabola sonora appena avvertibile, che muore nel buio come una stella cadente. Guardo la carta penninica, la dorsale che va a sud-est fra i due mari, e mi accorgo che la mia capretta meccanica sta facendo meticolosamente, al contrario, la stessa strada dei lupi. Non siamo liguri e nemmeno toscane, mi dice Cinzia, e mi accorgo che ha ragione. Ha l'occhio romanesco lampeggiante, corpo di morbidezza sociara. Ma allora chiedo cosa siete? Sannite, risponde come fosse la cosa più ovvia del mondo. L'esercito di Roma non riusciva a domare solo due popoli italici. I liguri apuani di queste terre e i sanniti tra Frosinone e Morise. Tostissimi, irriducibili. Allora hanno pensato di deportarli, trasferendo gli uni nella terra degli altri. Chissà, mi chiedo, che la resistenza di questa gente non sia nata allora. Da una ferita di duemila anni fa, riecco le montagne contro, gli appennini dei disertori e degli sbandati. Apprendo che a Favale di Malbano, poco a ovest, sopra Rapallo, alcuni cantastorie si convertirono alla confessione valdese per insofferenza verso i parruci e nel 1862 subirono, per questo, l'ultimo crudele processo per delitto di fede del Regno d'Italia. Con lo stesso spirito ribelle, Favale ospitò migliaia di disertori della Grande Guerra, su un monte dal nome ribelle di Caucaso. Vi restarono nascosti per anni protetti dal silenzio della gente. Sulle apuane uno di loro è rimasto fino alla morte, negli anni Sessanta, sempre in latitanza. Orlando si chiamava e il barbuto vignaiolo Nanni Barbero di Sarzana, dal quale mi fermo il giorno dopo in una giornataccia di pioggia, se lo ricorda bene. rubava galline e la gente lasciava fare. Entrava nei negozi a far questo, diceva con dignità sono venuto a riscuotere l'affitto e tutti stavano al gioco. La sera resto con Nanni a fumare in pace sulla terrazza della cucina, aperta sui boschi. C'è un gran silenzio. Mi accorgo che da giorni non vedo un supermercato, un autogrill, un v-compra o un manager vesticolante coloricolare. Sbocconcelliamo una torta di pere. Nanni racconta che nelle valli di Zeri, dove sono appena passato, alle feste di paese trovi ancora splendidi vecchietti grinzosi come Hobbit, con in testa feluche con i campanellini. Fino agli anni 40, le ragazze di lassù portavano una veste settecentesca, detta Giga, ed erano così belle che quando i paracadutisti britannici le videro, si presero solenni sbandate e scrissero note ammirate sui loro diari. Il nome del ballo detto Giga viene da quegli abiti. Racconta appunto Nanni che sulla musica d'Appennino ha una cultura sterminata. Ora la pioggia scende forte, il vento di montagna rinforza e il camino arde alla grande. Il vignaiolo stappa una bottiglia di rosso toscano e dilaga sul suo argomento preferito. Gli appennini grundano musica e quelli piemontesi più degli altri. Lì si incontra tutto, la melodia occitana, le gavotte francesi, i semitoni liguri arrivati dal mondo umoresco e poi il sostrato celtico millenario. Ha noto nomi di ritmi dimenticati, Curenta, Brandola, Quadriglia, Alessandrina e la mitica Manfrina che, spiega Nanni, viene dal Monferrato, sua terra d'origine. Il vignaiolo mette su un cd di cornamuse, poi chiede con aria di sfida, che roba è? Dillo, che roba è? Irlanda, rispondo. No, no, è Italia, Italia penninica, Italia vera, roba vecchia di mille anni. Sono cambiate solo le parole, ma le note sono le stesse del Medioevo. Mi chiedo che il legame vi sia tra queste cornamuse e i monaci irlandesi passati per le valli tosco-emiliane. Forse le brughiere atlantiche e le praterie d'Abruzzo sono abitate dagli stessi dei. La musica viaggia, anche la cornamuse ha viaggiato, ma nella direzione contraria a quella che si crede. Quale direzione? Chiedo a Nanni, mentre la pioggia è sempre più forte e il torrente si gonfia nel vallone. È arrivata in Scozia e Irlanda nel Settecento, dall'Appennino. La cornamusa costava poco, al contrario del violino. Così i nordici l'hanno fatta venire dall'Italia, il che significa che la musica tradizionale del nord celtico è stata costruita su strumenti di importazione. E adesso dimmi, insiste, che senso ha suonare irlandese in Italia? Che senso ha imbottirsi di birra nei pub con musica del nord? Perché inseguiamo le musiche altrui se abbiamo la nostra? La solita esterofilia, rispondo. Esterofili va bene, ma almeno che si guardi dalla parte giusta. La cornamusa viene dal mondo arabo-mediterraneo e quando arrivò in Spagna presi il nome di Gaeta. Poi viaggiò ancora. Gli inglesi lo sanno, a quelli non lo ammetterebbero mai, Brontola, e spiega altre cose mirabolanti. Per esempio, che bagpipe, il nome inglese dello strumento, verrebbe da Bageta, che in bergamasco vuol dire corna musa. Aggiungo legna al fuoco, il vento tira nel camino. Caro amico, questo tuo viaggio ti aprirà la porta di un mondo dimenticato e misconosciuto. Troverai l'anima di un paese disgraziato, amato da tutti, tranne che dagli italiani.